Il corso ha consentito di apprendere ad acquisire le competenze necessarie per intervenire prontamente nel caso di malore con arresto cardiaco polmonare sia con tecniche manuali di rianimazione che con l'uso del defibrillatore. In presenza di emergenze sanitarie infatti durante le escursioni col CAI ma anche nella vita e tutti i giorni può capitare il dovere prendersi cura di persone che accusano malori e bisogna intervenire prontamente per soccorrerli. Il corso ha avuto l'obiettivo di aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco e bisogna intervenire col defibrillatore oppure accusano altri malori. È stato finalizzato alla divulgazione della cultura del primo soccorso, l'insegnamento di poche e semplici manovre di BLS e l'utilizzo del defibrillatore che possono fare la differenza tra una morte certa e una speranza di vita. È stato rilasciato agli allievi e attestato valido ai sensi della vigente normativa. Le competenze acquisite dagli allievi del corso possono essere di salvataggio di vite umane non soltanto in escursione ma in ogni momento della vita. Al CAI Erice si insegna anche questo. Il presidente della sezione di Erice del CAI Vincenzo Fazio ha tenuto a ringraziare calorosamente il dottor Filippo Zerilli, il direttore del corso IRC Trapani, dottor Gaetano Pollara ed i suoi collaboratori per l'attività di formazione molto professionale ed il presidente Vito Accardo e tutto il consiglio direttivo del club Lions Trapani per il patrocinio a sostegno delle attività di formazione.